Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sonia e nel video di oggi, come potete vedere... No, aspettate! Devo cambiare la cornice! Adesso la cornice è rossa! Spero che si potesse fare questa cosa e non l'abbia inciso negativamente nel video, nella registrazione. Comunque, siamo in un gioco nuovo, si chiama Skype The Carnival of Terror Hobby. Non lo so, praticamente dobbiamo... È una mappa dove c'è un... Eccolo! Ragazzi, bastava che lo inquadrassi! È un Luna Park del terrore! Siamo stati bloccati nel carnevale abbandonato da un pagliaccio malvagio! Troviamo un modo per fuggire! Ok, Jim! Perfetto! Sperate che il mio cane si chiama Jim! Io penso che morirò di paura, lo sapete ragazzi? Se io ad esempio salgo qui... Partiamo! Dove dobbiamo andare? Vediamo, vediamo! Fatemi sapere comunque! Ma aspettate! Mettiamo un po' di musica! Ci sta! Qui, così ci spaventiamo di più, no? Ok? C'è, c'è, c'è un po' di rumore! Mettiamo... Questa è l'atmosfera... Ah! Checkpoint! Perfetto! Mi piace questa parola, checkpoint! Andiamo ragazzi! Ok, quindi penso che sia effettivamente... Ma di là si può andare? Non penso... Dobbiamo prendere il palloncino! C'è il clown hit? Hit e il pagliaccio! I colli sono denti? Checkpoint! Quanto mi piace questa parola! Ah, molto interessante! Comunque, fatemi sapere se voi l'avete giocata questa mappa! E che cosa ne pensate? Aiuto! Mamma mia, però! Molto inquietante! Che cos'è quella cosa verde che esce? Eccoci! Ciao, Jim! Velocemente! Da questa parte sembra una specie di boiler room! Se lo dici tu? Checkpoint! Anche a voi piacciono i checkpoint, vero? Che cos'è una pistola color splat? No, non la vogliamo comprare... Di qua! Oh, mamma mia! Le sopracciglia mi ha fatto, ragazzi! Eh, però è fatta bene, comunque, devo dire, questa mappa! Mi piace! Chi sei tu? Checkpoint! Non ci dice niente! Ok! Checkpoint! Questa è la mia mappa preferita, ragazzi! Stavo... Stavo... Ah! C'è qualcuno! Vieni con noi! Così? Ma cos'ho fatto? Non lo so, ho preso una scorciatoia! Eppure, devo vedere, uno di voi mi aveva scritto sotto nei commenti, sotto un altro video, di fare quella dove dovevamo scappare dal clown! Ora, era quella del McDonald? O era questa? Mi viene... Cioè, inizio a pensare che forse era questa! Però, anche se per adesso non stiamo scappando da nessuno, clown! Per adesso! Ok! Checkpoint! Sì! Mi piace questa parola! La mia nuova parola preferita! Ragazzi, scrivete sotto nei commenti, checkpoint! Concentriamoci! Concentriamoci! Ok, saliamo! Una porta! Però ci stava la cosa tipo... Ah! Ok, qua dobbiamo salire... Ah, stiamo uscendo, stiamo uscendo... Dove andiamo? Non mi fate spaventare, eh? Qua c'è Jim! Gulp! Sento un clown ridere! Fatti strada sulla ruota panoramica! Ok! Mi sono rotto una caviglia, avete sentito? Ecco il clown! Ma non vedo niente! C'è lui! No! Mi ha preso! No, non voglio comprare uno... Ragazzi, dobbiamo fare veloce! E come facciamo? Dobbiamo fare il giro... Facciamo così! Scendiamo da questo lato! Magari... Ora spuntate qua lui... Eh no! Però così non è giusto! Ma io posso correre in qualche modo! Mi raggiunge! Non vedo niente! Saliamo! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Voglio vedere come gli tarampichi qui! E ora dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare secondo voi? Forse lì? Ah, qua, 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 qua! Penso! Penso che dobbiamo uscire da qua! Ah no, che ci ha fatto uscire lui da soli! Io mi stavo lanciando! Ok, ma... Come fanno a stare in piedi queste tavolette? Non lo so, non facciamoci troppe domande! Ma come si è fatto a salire qui che era sotto? C'è solo un modo per scendere! Oh mio Dio! Non l'ho letto! Spero che la salta qui! Sì, ok! Sempre le caviglie! Non so se notate quando si lancia! Che rumore di caviglia rotta che fa! Ma cosa sapevo io? Ho sbagliato i tempi! No, la voglio comprare una jeep! Ok! Ma che carina! Ma scusate! Non voglio comprarlo! No, dobbiamo ricominciare tutto da capo! Ma c'è che veloce quello! Checkpoint! Meno male! Perché molto probabilmente in questa morirò! Ecco, saprò io! Chi ha spento la luce? Non lo so! Non voglio comprarlo! Ok! Ma scusate! Ma se Jim ha questa facilità nel fare il percorso! Che cosa vuole da noi? Portaci tu fuori! C'è un portale! Solo un modo! Non ho letto! Dovevo smettere di parlare! Stai bene! Chissà quanto è lungo! Ma! Scusate ragazzi! Non mi ero accorto che forse... Che fosse un ponte... Con... Dove dovevamo saltare! Insomma! Checkpoint! No! Perché non c'è il checkpoint? Eccolo! Quello male! Aaaaaaah! Aiuto! No! Non lo voglio un zombie fai! No! Di ponte! Ah no! Ragazzi guardate che sono brava! Mai proprio! Non mi ferma più nessuno! Però ho scoperto questa cosa! Le caviglie! Che effettivamente se vai veloce... Questo fuoco giallo ti farà correre davvero veloce! Ok! No! Ma bellissimo! Ma è bellissimo! Comunque se fai le cose più veloce... Effettivamente hai più possibilità di farcela! Ma è fantastico! E cosa ci farà fare questo fuoco blu? Checkpoint! Questo fuoco blu ti farà saltare più in alto! Ok! Perfetto! Liscio? Ah questo è il fuoco giallo! Oh! Ah no! Non ce l'abbiamo fatta! Che dobbiamo saltare... Ecco abbiamo sbagliato! Dobbiamo saltare proprio all'ultimo! Salto! Salto! No! Senti per la netta è difficile! No la voglio una mini jeep! Ok! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Ce l'abbiamo fatta ragazzi! No! Quel posto era scarico! Ma siamo ancora intrappolati nella... Nel carnevale! Questa cosa non mi piace tanto! Non mi piace tanto! Non mi piace tanto! Ops! No ma perché magari qualcuno di voi era curioso di sapere che cosa succedeva... Cioè passando su questi laser rosa! L'ho fatto solo per voi! Mamma mia che prospettiva strana! Ok l'ultima volta... In un video simile... Quando ho detto... Ebbè ma che ci vuole a passare senza toccarli? Sono morta! In un altro gioco... Dove c'erano queste trappole! Oh mamma mia! Pium 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 pium! Oh c'è una ragazza qui! Ciao amica! No non ce la faremo mai! Ecco! Ecco! Beh qua un rampino... Ci starebbe! Sì effettivamente sì! Qua è veramente... È veramente complicato! Sono tentata dal comprare il rampino... No! E scusate ma come devo fare? Ma se passo dai bordi? Vediamo! No non si può passare... Eeeh volevi! Ah ok se salto riesco ad andare un po' più avanti... Ok ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Sono troppo brava! Salta sulle montagne russe e lascia uscire da qui! Le capiglie se... Ma quello là... Perché non vieni con noi amica? Perché mi aspetto che mi compaia il clown... Così da un momento all'altro... Passiamo in volume... Passiamo in volume... Ok... Ok... Un punto ho passato... E' uno... Cioè due minuti... Ci divertiamo un tanto! Voi siete mai saliti sulle montagne russe? Io quando ero più giovane sì... Eeeh... 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 Ah! Ce l'abbiamo fatta! No, forse no... No, forse no... Tanto è stata una corsa sconnessa... Almeno non siamo capiti... Eeeh... Un po' peico con la stanza dei vicini... Ma c'è... Ci sono alcune cose interessanti che possiamo usare almeno... Non l'ho capito... Ma scusami... Li ha presi tutti lei? Ma... Io non ho preso niente... Ha preso tutto lei! E io? Ah... Aspetta... Forse ricompaiono... Voglio sperare per te... Che ricompaiono... E' finito... Che cos'è? E' un altro gioco questo... Ma questo l'abbiamo già fatto... Se non l'avete visto ve lo lascio qua... Comunque... Ragazzi... Che cosa ne pensate? No... Questo è un altro gioco... Togliamo l'audio... Ok... Questo è un altro gioco... E l'ho già giocato... Se volete andate a far vedere... Perché è veramente molto divertente... Eeeh... Niente... Se vi è piaciuto questo video... Lasciate un mi piace... Iscrivetevi al canale... E commentate sotto... Facendomi sapere che cosa ne pensate... E se volete vedere altri video così... Noi ci vediamo al prossimo video... Ciao ciao! 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 Ciao ciao!